La legge 107, legge che peraltro noi abbiamo sempre criticato in maniera aspera, siamo arrivati a quello sciopero così importante e significativo, venga disapplicato per spinte clientelari dal governo. Mi riferisco, la legge era una legge straordinaria, prevedeva una mobilità straordinaria solo per il corrente anno scolastico, mentre dal prossimo anno la legge prevede che si ritorni all'antico. In sostanza i posti che si rendono vacanti per pensionamento o per qualsiasi motivo vanno distribuiti al 50% alla mobilità, cioè ai trasferimenti o ai passaggi di ruolo, al 50% ai precari, cioè al concorso e graduatorie permanente. Loro hanno paura che sotto la pressione politica dei tanti precari del sud, soprattutto siciliani, ma anche campani, il governo decida di nuovo di procedere ad una mobilità straordinaria. La qualcosa sarebbe illegittima, cioè il governo deve rispettare le leggi che fa. Questa quindi sarà la posizione della CISL? Voi sarete in linea con queste richieste? E certo, la legge va rispettata, la legge la debbono rispettare innanzitutto chi la produce questa legge, insomma. Ripeto, la legge 107 a noi non piace, però non si può giocare sulla pelle delle persone, cambiando le carte in tavola ogni volta. Io sono un precario, ho fatto una scelta di non produrre una domanda di assunzione a livello nazionale perché contavo sul fatto che si ritornasse all'antico, cioè che mi si desse il 50% dei posti disponibili. Se si viene meno a questo, si compie un atto illegittimo e soprattutto di arroganza nei confronti di chi ha un lavoro precario.